Le opere che espongo non riflettono il mio gusto, ma non devono rifletterlo. No, riflettono la mia idea della comunità che si trova al di là della mia porta. C'è da stupirsi se io mi sono rivolta all'influenza civilizzatrice dell'arte. Voglio stare dietro. E papà insisteva, preso tutto da te. E' arrivato il tuo papà, Mott! I cancelli del regno magico. Allora, Kofi Annan, che cazzo ti porta qui? Ti darò i quadri, farò qualsiasi cosa! E io lo avevo in punto. Buona fortuna, Kira. Fammi risolvermi.